oggi vi voglio fare un piccolo focus on su under ninja appena uscito per jpop al costo di 6,90 euro questo è il nuovo manga di kengo anazawa molti di voi lo conosceranno come autore di iam iro un manga che sicuramente ha fatto abbastanza discutere perché a molti è piaciuto anche a me è piaciuto ma a molti non è piaciuto il finale cosa che spesso succede con i manga purtroppo a me sinceramente non è dispiaciuto l'ho trovato un finale piuttosto decente normale come dovrebbe essere un finale senza essere caricato di troppe attese quindi senza l'hype che spesso si mette nel finale che secondo me è insensato quindi ok però uscirà comunque la nuova edizione di iam iro con un finale rivisto dall'autore dalla copertina vediamo già come l'autore punti molto a fare qualcosa di esteticamente gradevole molto nuovo molto pop sembra quasi la copertina di una rivista di alta moda no di alta moda però comunque di moda o comunque un qualcosa di urban qualcosa di streetwear in realtà il contenuto è abbastanza diverso perché poi si tratta di un'opera che racconta dei ninja i ninja però non come li conosciamo per i racconti dell'antichità quindi i vecchi ninja che si muovevano quatti quatti per assassinare la gente con il classico vestito da shinobi no qui in realtà il ninja che ci troviamo a seguire è una persona tra virgolette tra molte virgolette normale in questo mondo odierno quindi contemporaneo i ninja sono tra noi sono nascosti anche da fattorini semplicemente e il protagonista quello che seguiamo è un ninja ma disoccupato quindi praticamente un nit uno che non sta a fare un cazzo tutto il giorno poi a un certo punto gli arriva un lavoro e tra una cosa e un'altra nel primo volume vediamo appunto la sua preparazione per questo lavoro in realtà non lo inizia ancora non solo perché vedremo anche altre cose parallele diciamo ad esempio il suo rapporto con i vicini di casa fighissimo dove va a rubare la roba da bere nel frigorifero oppure il rapporto con la vicina di casa molto 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 particolare ecco qui vediamo anche un esempio delle tavole super cinematografiche di anazawa che a me semplicemente fanno impazzire questa questa sequenza e altre sono profondamente cinematografiche come se ne vedevano come se ne vedevano tante anche in i am a hero poi fa un utilizzo incredibile delle fotografie secondo me riesce a fare questi sfondi partendo dalle fotografie in maniera eccellente anche quello della ragazza che sta dormendo qui la libreria sul sullo sfondo è esattamente un esempio di come si può fare alla perfezione uno sfondo partendo da una foto a un certo punto poi entra in scena anche un aspirante ninja straniero non si capisce bene se è russo o qualcosa del genere ma sembrerebbe russo vuole a tutti costi diventare ninja non si sa se è perché mandato da una potenza straniera da qualcuno che vuole carpire i segreti dei ninja o chissà però lo fa nel modo più strano possibile primo numero molto molto introduttivo che però secondo me pone le basi per un manga sicuramente interessante e che sarà fuori di testa completamente perché non solo vediamo questi ninja e le azioni che fanno che sono incredibili ma è molto molto fuori di testa anche per quanto riguarda il tipo di comicità le freddure questo nonsense che permea ogni tavola praticamente ogni sequenza dell'opera quindi il primo numero secondo me è da leggere poi in base a quello vi potete fare l'aspettativa o meno di quello che sarà il futuro di quest'opera sicuramente non per tutti sicuramente una cosa anche abbastanza particolare ma non particolare nel senso di complicata da seguire bensì appunto particolare proprio per quanto riguarda i gusti di chi potrebbe apprezzare o meno l'opera sicuramente il primo numero almeno ve lo consiglio d'accordo d'accordo Grazie.